Fabio, ricordarsi di questo problema a metà agosto quando la politica va in ferie non è un po' esagerato? Beh, con tutti questi problemi ferie me ne farei poche sinceramente, ma se devono servire ad un attunno impegnato e concreto perché no? Io penso che leggere i giornali sotto l'ombrellone di anche la maggiore tranquillità per capire ciò che si scrive. Siccome quello che stiamo denunciando non è una sciocchezza, il nostro slogan provocatorio apri il rubinetto e sta senza pensieri, è perché purtroppo così dovrebbe essere e non è. Perché il sistema idrico calabrese e quello crotonese di conseguenza paga il prezzo di una gestione come al solito soltanto burocratica delle problematiche. Il servizio idrico è organizzato, c'è una legge regionale che non viene applicata, un'autorità di gestione che non ha concretezza, di contro c'è un consorzio locale che gestisce un servizio idrico per nemmeno la metà dei comuni della provincia di Crotone, dove, devo dire la verità, c'è un grande senso di responsabilità dei lavoratori perché mettono le loro professionalità a disposizione ogni giorno. Sono state fatte delle illegittimità rispetto all'assunzione di questi lavoratori perché sono stati demanzionati, nel mancato rispetto del testo unico sull'ambiente e questo sta avviando una serie di denunce con dei tracciati già giuridici e quindi delle condanne a carico di congesi e nonostante da parte della Will, della Will Tech e della Will Regional ci sia un atteggiamento di dialogo anche alla possibilità di raggiungere delle transazioni per riconoscere loro ciò che gli spetta, viene tutto ignorato e viene gestita la cosa con una grande improvvisazione, a volte anche superficialità. Non potrebbe essere anche l'amministrazione comunale a doversi interessare di questo problema, visto che stiamo parlando di Crotone? L'amministrazione comunale nei giorni scorsi è stata informata di tutti gli atti ufficialmente tra l'organizzazione sindacale congesi perché deve farsi proprio da garante sia dell'efficienza del servizio che della tutela dei lavoratori stessi perché sono stati loro ad affidare gli impianti attraverso convenzione a congesi. Quindi noi ci aspettiamo adesso un confronto immediato per risolvere queste questioni perché più tarda la regione, più soggetti deboli, non per colpa dei lavoratori, ma per delle conduzioni molto discutibili dove c'è necessaria anche una maggiore attenzione dall'amministrazione comunale. Non vi ho alcun dubbio su questo e ce l'aspettiamo. Sta mettendo in questo momento in discussione un bene comune. Noi a Crotone abbiamo un depuratore che pur al netto del suo ammodernamento pecca di un sottodimensionamento. È inutile negarlo. Questo significa che in momenti come il genere non può garantire una depurazione totale delle acque che gli vengono conferite. La soluzione di questo e di tanti altri problemi che riguardano gli impianti del servizio idrico dipende proprio da una posizione regionale che è assunto.